Siamo con il professor Leo per parlare del tumore al colon retto. Che cos'è e qual è la sua incidenza? Il tumore al colon retto è praticamente il secondo killer subito dopo il tumore del polmone. L'incidenza in Italia è di oltre 52 mila casi l'anno. Le cause sono sicuramente più correlate alla presenza di polipe adenomi che trascurati vanno incontro negli anni, nel tempo, a degenerazione tumorale. Quali sono i fattori di rischio e come fare prevenzione? La familiarità, le malattie infiammatorie del colon e i stili di vita ovviamente. Come fare prevenzione? Eseguire in maniera scrupolosa gli screening, eseguendo poi a seguito delle colonoscopie, seguendo sempre le linee guida che gli screening impongono. Ma quali sono i sintomi e quali controlli deve eseguire la persona? Il sintomo principale a cui prestare attenzione è la perdita di sangue. Le modificazioni dalle proprie abitudini di defecazione, della funzione intestinale è anche un dimagramento anomalo, non legato a una dieta. Sano alimentazione e corretti stili di vita sono i temi essenziali della settimana nazionale della prevenzione oncologica, che ha come simbolo l'olio extravergine di oliva, un alimento sano per ogni cittadino, che troverà le nostre sezioni provinciali aperte anche per suggerimenti e distribuzione anche di materiale divulgativo, opuscoli e quant'altro.